Ci siamo? Ci siamo? La luce è perfetta, va bene? Direi che è perfetta, anzi magari faccio anche un selfie, da dove ci sono? Facciamola, facciamola. Scherzo, scherzo. Bellissima, tu sei una influencer. Esatto, sì. Ecco, cosa significa esattamente? Modella e influencer. Ho iniziato come modella quando avevo 16 anni, adesso sono 15 anni che lavoro come modella e da un anno e mezzo, quasi due anni, anche influencer sui social, su Instagram. Senti, ti ho visto sfilare qui su questo palcoscenico, bello, lungo, insomma. Che emozione si prova? All'inizio ero super agitata, diciamo che ogni volta che sfilo è sempre una grande emozione e inizialmente sono un po' agitata, poi però con questi abiti ti passa ogni paura perché sono veramente fantastici.